Non sappiamo assolutamente nulla dei nostri avversari e non so nemmeno quale strategia d'attacco useranno Allora Axel, tu giocherai centravanti, so che non mi deluderai Tranquilla Sono sicura che su Axel raddoppieranno la marcatura Voi passategli il pallone, ma provate anche a tirare Più lo marcano, più vi concedono spazi Ok! Noi almeno siamo stati puntuali Invece quegli alieni non si sono ancora fatti vedere Probabilmente sono intimiditi dal mio carisma Siamo la Diamond Dust, squadra di primo livello della Alius Academy Di primo livello Martini, ti mostrerò fino a che punto può essere glaciale l'oscurità dello spazio Freddo glaciale o caldo rovente non fa nessuna differenza Molto presto vi faremo passare la voglia di minacciare la pace delle nostre città e del nostro pianeta Amici all'ascolto, ci scusiamo con tutti voi per il protrarsi dell'attesa Sta per cominciare la sfida fra la Raymond e la Diamond Dust Una delle squadre di primo livello della Alius Academy Ed è la Raymond a battere il calcio d'inizio Ma cosa? Che cosa sta succedendo? La difesa degli alieni si apre di colpo Lasciando un'autostrada davanti agli attaccanti della Raymond Che tattica è mai questa? È come se li stessero invitando a tirare Si sta entrando? Goal! No, mi correggo Beluga ha bloccato il tiro con una sola mano La sua rimessa ha coperto tutta la lunghezza del campo Pazzesco D'accordo Straordinario Gli alieni si piazzano in marcatura con incredibile rapidità Bobby! Eric! Cosa? Ops! Rin anticipa Igon e serve Gattel Però niente male, complimenti Questa partita è troppo noiosa Possi in te eviterei giudizi affrettati Guai a sottovalutare Mark e i suoi compagni Sharp ruba palla al centrocampo Ma Gazzello gliela toglie a sua volta È un ritmo insostenibile Sono davvero rapidissimi Forza, mettetecela tutta Eagle effettua un passaggio per Sharp La Raymond è in attacco Su ragazzi! Segnate questo gol! Tuo Eric! Eagle riceve palla E la smista su Heartland Sivolata di ghiaccio! Heartland finisce a terra Susette E questo non è che un assaggio terrestri Coker ruba palla e serve Gazzello con un lungo passaggio Ti fermerò io Gazzello riceve palla e tenta un dribbling Corre! Inespugnabile! Muro di roccia! Bloccato! La difesa ha salvato su Gazzello Ma la Raymond è in affanno Ci sono voluti ben due difensori Per neutralizzare una normale conclusione a rete Chi ha tirato questo pallone? Quello è Byron Love Clamoroso! Love, il capitano della Zeus Si schiera con la maglia della Raymond Questo è un vero e proprio colpo di scena! Quelli della Zeus erano solo buoni a nulla Super atleti da quattro soldi Umiliati da giocatori qualunque Ma guarda un po' Questa non me l'aspettavo La cosa comincia a farsi interessante Secondo voi facciamo bene a fidarci di quello? Provare non costa nulla L'allenatrice ha ragione E poi in questo momento siamo a corto di alternative in attacco Non preoccupatevi Ha convinto Mark e per me questo basta Mark, sono venuto qui perché voglio darvi una mano Vi ho visti giocare contro l'Alius Academy E mentre vi osservavo lottare con tutte le vostre forze Ho sentito crescere in me il desiderio di giocare al vostro fianco Vi sto chiedendo di farmi diventare un giocatore della Raymond Aspetta un attimo Ma se tu ci hai sempre disprezzato E ora vuoi giocare con noi? È difficile credere che un giocatore della Zeus voglia giocare nella Raymond So cosa pensate, non vi piasimo Ma vi supplico di credermi Non ho più intenzione di ricorrere a facili scorciatoie come il nettare degli dei Mi avete aperto gli occhi Ho capito che non importa quante volte cadi a terra Perché soltanto chi cade può risorgere Solo chi cade ed è capace di rialzarsi diventa più forte Dagli retta Sembri molto fiducioso Sì Per me sei sincero, riesco a leggertelo negli occhi Non te ne pentirai Grazie Mark Forza Byron, fai del tuo meglio Attenzione, la Diamond Dust insiste all'attacco Tuono del vulcano Shiren ruba palla e si butta in avanti Il nuovo entrato Love gli sta dettando il passaggio Darà qui Possiamo davvero fidarci di lui Shiren indugia troppo e si fa soffiare la palla Ennesimo attacco della Diamond Dust Una di roccia Jack, dalla Byron, presto A Byron Passagli la forza Va bene È troppo lunga Peccato, un'altra promettente azione finisce sprecata per la scarsa intesa col nuovo entrato Danza del fuoco E la Raymond riparte in contropiede Ehi Axel Perché l'ha passata proprio a lui? È marcato da due difensori I ragazzi non riescono ancora a fidarsi di Byron Attenzione! Fulmini a ripartenza della Diamond Dust! Pensi davvero di riuscire a fermarmi? Non sottovalutarmi! Con un'ottima finta Gazelle si libera di Kane! Para questo! Grande parata! Il capitano Evans blocca in tuffo! Sei bravo, terrestre Ma la tua squadra è disorganizzata Anientarvi sarà una passeggiata Gli alieni tornano all'attacco! Turbina rotante! Quanto sono forte! Non cantare vittoria! Non cantare vittoria! No! È troppo lunga! Ha sbagliato il passaggio! Prendetela! Era quello che aspettavo! Byron! Presa! Finalmente il nuovo entrato! Love tocca il suo primo pallone! Vediamo un po' di cose capace! Salto temporale! Guarda come ti sei ridotto! Giochi al fianco di quegli stessi terrestri che un tempo disprezzavi e che ti hanno umiliato? Umiliato è detto! È proprio qui che ti sbagli, Gazelle! Con la sua forza di volontà Mark mi ha aperto gli occhi e mi ha strappato da un vero incubo! È grazie a lui se ora sono ancora più forte! Senza il mettere degli dèi non sei nessuno! Sei completamente impotente! Ti sbaglio, ormai non mi serve più! E ora ti mostrerò la mia nuova forza! Colpo Supremo! È un vero portento! Incredibile! È più potente di prima! Gol! Fantastico! Col suo colpo supremo Love porta la Raymond in vantaggio! Ha segnato! Siamo passati in vantaggio! Accidicchia! Quello lì è un fenomeno! Come ha fatto ad eseguire il colpo supremo senza il mettere degli dèi? Ma hai visto un tiro così potente in vita mia! Impressionante! E ha messo questa enorme potenza al servizio della Raymond! E pensare che un tempo era uno dei nostri più temibili avversari! È acqua passata! Adesso conta solo il presente! Bravissimi ragazzi! Ogni volta che indossiamo questa maglia diventiamo una cosa sola! E dobbiamo lottare tutti per lo stesso obiettivo! Sì! Notevole, devo ammetterlo! Dunque la sconfitta e il finale contro la Raymond e l'incontro con Mark Evans ti hanno reso più forte? Ma non illuderti, vi distruggerò comunque! La Raymond è passata in vantaggio! Non avrei mai pensato che potesse accadere una cosa simile! Credo che anche Gazelle abbia percepito! Percepito cosa? Il valore della Raymond e soprattutto di Mark Evans! Ah? Che ti avevo detto? Lo capisci solo quando li affronti! Ma vedi di piantarla! Non fai altro che sputare sentenze, sei sempre il solito! E ora vi mostrerò il buio genito dello spazio siderale! Sì volata di ghiaccio! Non ci voleva! Sharp perde palla a centrocampo! Dovranno fare i conti con me! Mula di ghiaccio! Andata perforante! Davanti a Gazelle si spalanca una voragine! Ivan si è rimasto solo! Questa volta non mi fermerai! Vedremo! Spera di ghiaccio! Gazelle ha eseguito la sua tecnica micidiale! Ghiaccio di ghiaccio! È incredibile Gol! Gazelle ce l'ha fatta Ha perforato il pugno di giustizia di Evans Tutto qui quello che sai fare? Mi hai molto deluso E l'arbitro manda le squadre al riposo Accidenti, quel tiro era davvero eccezionale Povero Mark Pazienza La prossima volta la fermerò E da quel momento non avranno più scampo Coraggio, ce la faremo I terrestri erano passati in vantaggio, dovreste vergognarvi Sarà una passeggiata L'hai detto tu, non è vero? Dora in poi si farà sul serio La Diamond Dust non perderà Non lo permetterò La ripresa prosegue sulla falsa riga del primo tempo Assistiamo a continui capovolgimenti di fronte È impossibile pronosticare l'esito di un match così equilibrato Forza ragazzi, potete farcela Ora è la chance a partire da dietro e a impostare la manovra La tecnica di Mark non è ancora perfezionata Solo con un altro gol possiamo sperare di vincere Scivolata di ghiaccio Attenzione, la Diamond Dust riparte in contropiede Corre! Inespugnabile! Ondata superante! No! Ancora una volta Gazelle sorprende la difesa squarnita e si ritrova a tu per tu con Evans Sto per concludere a rete! Sfera di ghiaccio! Questa volta devo farcela Puglio di giustizia! L'implacabile Gazelle batte Evans per la seconda volta nel corso di questo match! Ve l'ho detto Vinceremo noi terrestri, rassegnatevi! Ora si che si comincia a ragionare Ma se pareggiassero di nuovo ci sarebbe davvero da divertirsi E' assurdo, ha già perforato per ben due volte il pugno di giustizia Non importa, coraggio! Purtroppo il pugno di giustizia non è ancora perfetto Di questo passo la Diamond Dust segnerà ancora Eh già Però non possiamo permetterci di subire altri gol Dobbiamo fare in modo di tenerli più occupati in difesa Dobbiamo attaccarli! Non devono assolutamente tirare in porta! La Raimon non si arrende! I ragazzi di Capitano Evans continuano a giocare alla pari con un avversario che sulla carta è molto più forte! Byron! Sì! Su, Axel! Tormenta! Di fuoco! Blocco! Glaciale! Glaciale! Gol! Blaze ha segnato! Sì! E vai! Che coppia d'attacco! Davvero niente male! Ma non è possibile! Mancano pochi minuti al termine dell'incontro! Prepariamoci a un finale mozzafiato Forza! Solo la vittoria è un risultato accettabile La Diamond Dust sta effettuando una marcatura spietata su Love & Blaze I due attaccanti non riescono a ricevere il pallone Basta un altro gol Se riuscissimo a segnare un altro gol sarebbe quasi fatta E allora forza! Eric! Bobby! Mark! Sì! E alla porta adesso chi ci pensa, ragazzi? Civoletta di ghiaccio! Oh no! Attenzione, la porta è completamente sguarnita! Dammela! Provvidenziale intervento di Kane! Senza di lui Gazzella avrebbe sicuramente segnato! Grazie, sei stato fantastico! Tranquillo, fratello! È stato un piacere! Bobby! Eric! Non ha importanza! Ci riproveremo! Sì! La tecnica micidiale del volo della Fenice obbligo a Mark ad allontanarsi troppo dalla porta e con questi avversari è un grosso rischio! Sì, lo so! Ma non ci rimane molto tempo! Se vogliamo davvero vincere questa partita dobbiamo tentarle tutte! A mio avviso Mark farebbe molto meglio a restare dove si trova! Un errore potrebbe costarci davvero caro! Sharp avanza sulle tre quarti! Siamo agli sgoccioli! Questa potrebbe essere l'ultima azione della partita! Axel, Mark! Adesso, coraggio! Sì! Ivan se si porta di nuovo in avanti! Questa è la formazione della riete in Azuma! Attenzione! Axel intercetta il passaggio! E ancora una volta la porta della Raimon è incustodita! Mark torna subito in porta! Presto! Forza, passala qui! Proverai la paura degli abissi siderali! Spera di ghiaccio! Pugno! No! Non puoi con la mano! Sei fuori dall'area! Sarebbe fallo! Ah! Cosa? Assurdo! Incredibile! Ivan se sventa la minaccia con un colpo di testa! E la partita si conclude in parità! La Diamond Dust non è riuscita a segnare! Ma come ha fatto? Avete visto? Quella è una nuova tecnica! Ti è andata male, Gazelle! Xeed! Mi avete proprio impressionato, caro Mark! Avete fatto enormi miglioramenti in un periodo di tempo molto breve! E ti assicuro che diventeremo ancora più forti! Faremo di tutto pur di battere la Alyus Academy! Bene! È proprio quello che voglio! La più forte squadra della Terra! Di un po', stai parlando seriamente! Alla prossima, Mark! A presto, Ivans! E non ti illudere! La prossima volta vinceremo!